La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa. L'Interreggio è pronto a recidere il filo con il suo passato recente per allacciarsi ad un corso nuovo di zecca. Nelle ultime ore, infatti, si starebbe concretizzando il passaggio di consegne, in verità già nell'aria da diverso tempo, tra il presidente biancazzurro Franco Pellicanò e Pino Benedetto, in passato patron della regina. Benedetto andrebbe a rilevare il titolo sportivo di Serie D e la gestione dell'Interreggio Village, vero e proprio fiore all'occhiello della società regina, sotto il profilo dell'impiantistica sportiva. Un cambio di società che andrebbe a concretizzarsi anche in caso di conferma dell'interdittiva antimafia piombata sul club biancazzurro nel corso dell'ultima stagione. In merito, il TAR dovrebbe pronunciarsi dopodomani, stabilendo se sospendere il provvedimento o dare ragione alla prefettura di Reggio, ratificando la misura che costringerebbe, ad un'altra annata di sacrificio, la società di Viale Messina. Qualora tutto dovesse concretizzarsi, pronto anche il piano tecnico di Pino Benedetto, che potrebbe coinvolgere l'ex DS della Vibonese Massimo Mariotto, a cui andrebbe la poltrona di direttore sportivo, è Nevio Orlandi nel ruolo di allenatore.